Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800-039-036 per avere un trattamento privilegiato 800-039-036 Maria Laura Gabini Beh ragazzi ma questa è una cosa seria Adesso io dai talenti ai veri professionisti Prende il microfono, toglie l'asta Insomma si sente importante Allora Emilio Colanto mi puoi praticamente dare il benvenuto Perché qua si parla di musica Allora io stavo prendendo la tua cartellina Perché mi stavo appunto informando Chi fosse il nostro talento che è appena salito qui sul palco Del By Night Se me lo fate vedere anche a me è meglio Oh attenzione Allora lei è Maria Laura Gabini Corista del cantante Ron De Ron Cioè tu sei stata la corista di Ron Perfetto Quindi tu saprai tutti i duetti quelli storici Tipo rincontrarti tra cent'anni Esatto Bello che spettacolo Nel 2010 ha cattato la sigla ufficiale del Festival Show È stata finalista all'Accademia di Sanremo Lab del 2009 Oh lei è un grande talento Ospite al Festival Show del 2009 Ha partecipato al programma I Raccomandati Nel 2009 con Riccardo Fogli Cioè quindi tu sei stata la corista di Ron E sei stata presentata da Riccardo Fogli Sei un grande talento Allora attenzione Che cosa Che è? Riccardo Fogli Mi piace fare questa cosa Bazzudone Riccardo Fogli Allora le domande Dobbiamo fare alcune domande Eh beh certo Maria Laura Gabini Allora Eh beh Volevo sapere A parte che ai raccomandati Ha partecipato anche Tiziana Camelin Stigazzi Ecco che è la nostra speaker Quindi vuol dire che ci possono andare Di tutto Cioè che cosa stai dicendo? Allora cosa Cosa vuoi fare nella vita? Sentiamo Chissà chissà Vuoi fare la cantante? Proprio Pensa tu Voglio fare la cantante Ma che sei convinta? Sono convintissima E allora io direi di non fare altre domande per il momento Ma di ascoltarti Perché in diretta By Night Roma Ovviamente Deve sentire il tuo Che è qua? Nessuno Sì sì È un brano Scritto dal maestro Michele Pecora Allora lo sentiamo Tutto in diretta Praticamente È un talento Della notte romana Lo stiamo per ovviamente Presentare Attenzione Gianluca Armagno Qui mi dicono Ecco ci stanno Ci stiamo organizzando Sì 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 Intanto stanno preparando Intanto il telefono della Intanto diamo una notizia Che lui prepara Sì Sai siamo in tema di vacanze Allora le donne Sono tradizionaliste Nel senso che loro preparano la valigia Mettono una posizione Rompono il coglioni Prima di partire Però alla guida Poi c'è sempre l'uomo Cioè quindi Si sobbacca Chilometri e chilometri Quando si mette Guida l'uomo Guida l'uomo E di solito La donna Di lato Non fa compagnia Dorme Perché lei è stanca Perché ha preparato Le valigie Tutta la settimana Ha messo a posto La biancheria Ha stirato E quindi Adesso si sente stanca E può dormire A fianco dell'uomo Che si Si macina Quegli 800 chilometri Per andare dovunque E lei dorme di fianco Beata Perché lei ha fatto Tutto con le tue fane È vero È vero Ce lo conferma Ha visto? Lei ce lo conferma Perfetto Allora vai Siamo È tutto pronto Per Maria Laura Gabini Che ci canta Nessuno E allora La vogliamo sentire In diretta By Night Roma Talento della notte romana Non canta L'ha già cantata E quindi la sentiamo È cantata al vivo Io direi Io avrei cantato Il posto tuo adesso Talento della notte romana Comunque Maria Laura Gabini Radio Radio By Night Roma Radio By Night Roma Presenta il nuovo talento Della notte romana In diretta fino alle due Prendi tutto quello che è stato di noi Le tue scarpe e gli abiti In fretta la tua valigia Vai Fuori c'è la libertà Ed un'altra donna Tu neanche quando avrai la certezza Che niente più di lei Nessuno mi potrà spiegare Tutto il bene e il male Le ragioni che mi hanno fatto grande E torna insieme a te Ringraziamo anche Flavia Amato Per gli edit E qui abbiamo proprio lei Maria Laura Gabini Insomma si sente che ha professionalità Si sente ovviamente che è un'esperta Potrebbe diventare un domani con te Emilio Colantone Magà io sarei onorato Se lei volesse fare un duetto Io sarei molto onorato Certo volentieri Allora ce ne presenti un altro? Si Un altro brano che si intitola Perdonami Emilio Stupido uomo Ah grazie Lo sentiamo direttamente Ho capito perché Sentiamo Radio Radio By Night Roma Radio By Night Roma Presenta il nuovo talento Della notte romana Nuovi inediti da sentire Ti amo Stupido uomo Io sento la mano Con te L'immenso è scomparso intorno C'è il silenzio Il suo rumore Tu porta il mio cuore Con te Festival show 2008 Da questo album Da questa compilation È stato appunto Estratto questo singolo Stupido uomo E quindi Emilio Polantoni Insomma ovviamente Una canzone un po' Femminista Va bene va bene Lei è già microfonata In realtà non è una canzone femminista Perché parla di un uomo Che tratta malissimo Una donna Si Che si è innamorata Perdutamente di lui Quindi lo chiama Stupido uomo Ma in realtà È tanto innamorata È quello che succede Un po' all'ordine del giorno Diciamo Questa chi l'ha scritta? Michele Pecora? No Come? Michele Pecora l'ha scritta? No questa è stata scritta Da Marco Petiagi Il brano che avete ascoltato prima Invece è stato scritto Da Michele Pecora Grande Oh ma tu conosci tutti I grandi Tra gli anni Sessanta Settanta Eh? Bravissima Eh? Le sei tutte allora Perfetto 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 E quindi niente Adesso cosa Cosa ci canta Un altro pezzo Oppure abbiamo No ha finito Lei si ha presentato tutto Però io volevo un attimo Insomma sapere i tuoi contatti Per andare anche a sentire Altro di tutto quello che hai fatto Sì allora Su myspace.com Ci sono altri brani miei Ci sono altre cose Alle quali sto lavorando Che naturalmente Ancora non ho pubblicato Spero di fare un album Che possa essere prodotto Al di là di quelli che sono i reality Che oggi danno le possibilità ai ragazzi Speriamo bene Che dirti Grazie di questa possibilità Grazie per essere stati qui insieme stasera Spero di incontrarvi nuovamente E di avere ancora tempo con voi Ecco Mi raccomando Devi sempre comunque darti da fare Anche quando verrai in diretta Perché è sempre importante C'è sempre qualcuno ovunque Che ti può guardare Ti può sentire Insomma ti devi Quindi la prossima volta Gatto dal vivo Ok? Esatto Grazie ovviamente Grazie a te Ciao a te Ciao a te Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti